Dai frutteti di Genga ai vigneti della Vallesina, qui dove nasce il Verdicchio, un'altra delle eccellenze marchigiane più famose al mondo. Per migliorarne la qualità, in casa Monteschiavo, azienda leader del settore, in queste ore sono arrivate importanti novità. Si arricchisce di un nuovo team di enologi l'azienda Vinicola Monteschiavo, il toscano Carlo Ferrini, fuoriclasse del settore, e Simone Schiaffino, con esperienza sia in Italia che all'estero. Nomi e curriculum che vanno a comporre un binomio in grado di puntare al raggiungimento di livelli sempre più alti di eccellenza e qualità. Per noi è una novità importantissima, andiamo a rafforzare il settore tecnico della Monteschiavo con dei nomi abbastanza importanti, anzi direi molto importanti. Carlo Ferrini è un super enologo conosciuto in tutto il mondo, miglior enologo dell'anno per tre anni di fila nel mondo, segue molte cantine, grandissimi nomi, quindi farà da supervisore. Poi Simone Schiaffino, che è sempre enologo e enotecnico, che ci seguirà tutti i giorni durante tutto il processo produttivo dell'azienda. Nuovi arrivi in linea con la filosofia aziendale, che vede la tradizione a braccetto con l'innovazione e che punta ad un miglioramento sempre costante del prodotto ricavato dai vitigni, che coprono 85 ettari di terreno. Prima di tutto è la mia prima esperienza di verdicchio e questa è la cosa più importante per me, perché mi arricchisce di una parte di enologia italiana molto, molto importante. Per me il verdicchio è un vitigno bianco, forse il più importante, se non il più importante, ma uno dei più importanti italiani. Sicuramente credo che abbiamo tutte le possibilità per fare un bianco con questi profumi particolari, con questa acidità, con questa struttura, con questa spina dorsale, che ci darà un prodotto sia da bere in tempi brevi, ma da bere anche in tempi molto lunghi. Vorrei vedere un po' se si può fare anche delle cose molto belle a livello di riserva. Alla Monteschiavo potrebbe sicuramente servire la mia esperienza avuta in queste dieci vendemmie nel verdicchio, in varie aziende della zona, essendo comunque il verdicchio un vitigno molto plastico e che si può trasferire, esprimere in bottiglie in diverse maniere. Lavorando anche con dei vini rossi in Toscana e in Alto Adige ho potuto fare un bel bagaglio culturale e esperienza da rivendermi qui in questa azienda dove i vigneti sono tanti, le soluzioni possibili sono tante, i vitigni a bacca rossa sono tanti. Dunque verdicchio ma non solo. La sfida è quella di allargare la produzione e la gamma di prodotto per aggiungere nuovi orizzonti di mercato. Puntiamo per quanto possibile a migliorare ancora la produzione sia a livello che di bianco e a livello di rosso invece vogliamo creare anche qualche prodotto nuovo che sia l'espressione dei vigneti che abbiamo qui nella zona. Siamo forti nel sud-est asiatico e siamo meno forti nel mercato americano quindi specialmente sul fragente dei rossi speriamo di poterci conquistare delle fasce di mercato anche in questo mercato molto importante. Grazie.